Buona giornata a tutti. Una giornata di Pasqua con della residuovariabilità in mattinata all'estremo sud e tra Sardegna e Sicilia, meglio altrove, zoom precipitazioni che ci conferma qualche locale fenomeno che interesserà l'Appennino meridionale, parte di Sicilia ma soprattutto Sardegna. Bello sulle regioni centrosettentrionali, prossima grafica che ci conferma cieli sereni o poco muvolosi su un po' tutto lo stivale, variabilità diurna solo sulle zone prealpine del nord durante appunto il pomeriggio. Ecco qui gli occasionali piovaschi che bagneranno soprattutto la Sardegna con clima ventoso. Dettagli e ulteriori approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.